Ma anche dopo ce l'avevo, noi abbiamo creato altre occasioni dopo, purtroppo due errori abbiamo pagato come li paghiamo in ultimi tempi, però io sulla prestazione non posso dire niente, perché non abbiamo fatto male, ente l'ha fatto quelle due cose su errori nostri, su un calcio d'angolo a nostro favore abbiamo perso la palla e adesso anche lì su un ridio lisciato abbiamo preso a seconda, su cose che succedono nel calcio e penso che con un po' più concentrazione si possono evitare anche quella. Buonasera, dopo la partita di Salerno questa è la migliore partita che abbiamo fatto, oggi avrebbe questa prestazione migliore rispetto alla partita di Salerno? Sì, abbiamo fatto meglio, abbiamo subito meno, penso che a parte due gol in tela non ha creato problema, abbiamo giocato purtroppo anche lì, su due palle che non dovevano dire niente abbiamo subito gol da parte nostra, qualche occasione in più l'abbiamo trovata, purtroppo tra il pallo e tra errori di mira non l'abbiamo approfittato. Tra gli indizi si dice che fanno una prova e ci siamo d'accordo su questa testa, nel senso che la terza rimonta significa che qualche problema c'è la nostra? che siamo sfigati, fino all'ultimo minuto penso che era il pallo di Mazzotta, penso che era il pallo di Mazzotta, ce ne stavano state altre. Una partita giocata così per forza è sfortunata. Buonasera, mister Paolo De Garrois, abbiamo visto meglio oggi? Sì, perché come premio è rimasto un po' proietti carano e io penso che oggi era la partita dove si doveva attaccare un po' di più, visto che eravamo in casa e visto che avversario non è un po' di prima scelta e gruppo anche un po' più offensivo, speravo che mi dà qualche cosa di più in avanti a parte gol, penso che ha fatto anche qualche giocata importante. Si è convinto? Eh? Si è convinto di Brukman che può giocare bene in cima di no? Io non ho detto di no, io ho detto che lo preferisco Mazzotta, ripeto, oggi non c'era Proietti, c'era o lui o Cararo, per me ha fatto esperienza, però volevo giocare più offensivo e lui è più offensivo rispetto a Cararo e ha più ritmo rispetto a Cararo. Cararo è play proprio play. Grazie.